Ci sarà una Ponzano nuova ma c'è una Ponzano vecchia da mettere in sicurezza. Assessore De Dominicis, quando partiranno i lavori e di che si tratta? I lavori stanno per partire, in questa fase ovviamente c'è già tutta la progettazione, si dovranno acquisire alcuni piccoli tratti di terreno dai privati per permettere di mettere in sicurezza l'abitato attualmente esistente. Ponzano è quella parte di Ponzano che è rimasta. Che poi è la parte storica di Ponzano. Che è la parte storica, quella più antica, che però, visto che ci sono delle famiglie, delle abitazioni che abitano lì giustamente e correttamente, si cerca di diminuire il rischio, di mitigare il rischio che in qualche modo la frana possa aumentare la sua ampiezza e in qualche modo andare a coinvolgere queste case. Quindi avevamo individuato circa 3 milioni e mezzo per appunto questa messa in sicurezza che sono stati appunto dati. È stata fatta già una progettazione che prevede tutta una serie di lavori, in particolar modo di ingegneria idraulica, la parte maggiore. Verranno prese queste acque e portate in luoghi sicuri per evitare che in qualche modo ricadono nell'area di frana, senza contare appunto qualche piccola micotrapalificata per mantenere alcune zone, alcuni muri, diversi pozzi a dispersione appunto per le acque superficiali. Insomma, i lavori sono imminenti per la partenza.